ciao allora in pratica stamattina sono stata in giro oggi pomeriggio sto nel lettuccio e ne approfitto per stare con chicca e la in fondo c'è no al contrario quella era xina questa è chicca le riconosco perché xina è più chiara di pelo e niente sto facendo sto provando a fare un copripallina in amigurumi non so neanche come si pronuncia amigurumi amigurumi comunque questo qui e appena lo finisco ve lo faccio vedere